Però io credo che, questa è una riflessione che vorremmo dire con tutti, che a livello reale della vita, quindi del costruire la realtà quotidiana, ci siano vari livelli. Faccio un esempio, l'energia è evidente che sia una cosa difficile da produrre sul territorio e quando per esempio, poi ci sono i pannelli solari, ci sono, cioè c'è tutto, però io credo che ci siano vari livelli sulle tecnologie, per esempio il cibo si può produrre sul territorio, i vestiti si possono produrre sul territorio. Quindi secondo me potrebbe essere, dico una riflessione, interessante ragionare sulla possibilità territoriale della creazione di quello che serve per vivere in relazione all'apertura alle colonie al fuori. Quindi se farò una fiera probabilmente sul, non so, su determinate tecnologie, magari ci sta che mi aprirò a un lavoro esterno, sulle cose che si possono fare sul territorio, forse ha senso lavorare, è una riflessione la mia, cioè non vuole essere una formazione. Però credo che sia interessante ragionare sulla possibilità, quindi certe cose si possono fare sul luogo e certe altre... È un altro livello secondo me, però credo che... Allora diciamo, diciamo tutto quello... Allora...